Iniziare la ristrutturazione della propria abitazione è una scelta decisamente importante, non priva di rischi o di possibili conseguenze che spesso il padrone di casa non tiene in considerazione proprio perché non le conosce. Per parlare di questo tema oggi siamo venuti a Castiglione Olona in provincia di Varese e siamo in compagnia di Sandro Ciavattini che è il titolare di House Service, una società che da quattro generazioni si occupa di edilizia. Ciavattini, perché è così complesso avere una visione complessiva per le persone? Perché il 90% delle persone non hanno mai ristrutturato, quindi si approcciano la prima volta in una situazione, non hanno metodi di misura, non hanno capacità di poter capire chi è cosa, come si comportano, la qualità del lavoro, cioè si devono totalmente affidarsi alle persone che arrivano e quindi è un po' difficoltoso. Si tratta anche di tante persone perché le professionalità da impiegare sono moltissime. Sì, sono tante, poi sono anche sbariate perché si parla dagli ingegneri, agli architetti, ai geometri, ai muratori, elettricisti, ai falegnami, ai bianchini, poi soprattutto quando si vanno nelle rifiniture bisogna proprio avere delle maestranze molto alte, se no tutto quello che noi facciamo dentro di muri viene nascosto, una finitura e quindi lì ci vogliono anche persone molto competenti. Che consiglio si sentirebbe di dare a una persona che sta per iniziare la ristrutturazione? Allora, il mio consiglio più grande che posso dare è avere un solo interlocutore, cioè un'azienda che ti fornisce questo servizio chiave in mano e che gestisce tutto una persona, praticamente, il proprietario di questa azienda avendo più figure da lui assunte, vengono gestite molto meglio le ristrutturazioni e vengono anche di molta più di qualità e soprattutto il cliente viene più tutelato. Ecco, ha parlato di impresa con servizio chiave in mano, se ne sente molto parlare però poi non tutte lo fanno, come si riconosce? Allora, lo vendono tutte e lo fanno in pochissime, in Italia saremo, penso quattro aziende che lo fanno questo chiave in mano perché si alvalgono di questa parola perché diciamo è, prende, prende al cliente questa parola chiave in mano, ma poi se andiamo a vedere il falegname è un artigiano, l'elettricista è un artigiano, l'idraulico è un artigiano e quindi non sono figure gestite da uno solo interlocutore perché loro hanno anche gli altri cantieri e quindi ci sono di lungaggini nei lavori, non si sa mai chi ha fatto cosa e i clienti si trovano a un certo punto che se anche la ristrutturazione non è venuta bene non sa più con chi prendersela. Quindi a fare la differenza è proprio il fatto che un'azienda debba assumere, debba avere al suo interno tutti i lavoratori che poi entreranno in cantiere. Sì, allora questo è il consiglio per avere una ristrutturazione fatta di livello senza accumulare stress al cliente perché dopo sarà una ristrutturazione si parla di soldi, risparmi, fatiche e avere anche la difficoltà di gestire una situazione del genere senza esperienza io proprio non lo farei, quindi consiglio proprio di prendere un'azienda che abbia in pancia tutte queste figure. Guardandola dalla parte dell'azienda è una responsabilità enorme quella che si prende il titolare. Sì, enorme, enorme perché non hai via di fuga come si dice, cioè qui sono, qui ci sono qua davanti a te, se io vengo a ristrutturare la casa tua per qualsiasi cosa, una piastrella che non ti piace, la rasatura non va bene, qualsiasi cosa che per te non è stata fatta come la desideravi, non devi andare a cercare su 15 persone a chi è stato, vieni qui da me e mi dici, guarda questa piastrella non mi piace, va rimossa e va cambiata, ecco, ecco quello che i clienti trovano comodo e soprattutto dobbiamo consigliare di far così. Quindi è un po' una garanzia della qualità e anche della sicurezza poi dello svolgimento dei lavori. Certo, lei pensi di andare in posta e dover parlare con 100 persone per risolvere un problema, ecco la classica cosa che ti mandano su e giù dalle scale, ok? E questa cosa è fastidiosa, è stressante, non hai tempo, invece qui tu vieni, parli con un solo interlocutore e ecco, risolto il problema. Immagino che una responsabilità tale porti anche a dire dei no nel caso in cui magari non ci siano le condizioni per fare un certo tipo di lavoro per esempio. Sì, i no sono fondamentali, i no sono fondamentali, io ho detto più no qua dentro che sì nelle ristrutturazioni, perché il no vuol dire che hai di fronte una persona che sa come si fa una ristrutturazione e quindi ti dà dei paletti dove il cliente non può entrare, perché se il cliente vuole entrare in un certo modo a insegnare, tra virgolette, per quello che ha sentito e questo imprenditore che è davanti ti continua a dire sì, 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 c'è un problema. Dal punto di vista dell'edilizia per questo settore siamo in un momento abbastanza complesso, come si riconosce un'azienda solida a cui affidare un lavoro importante perché la ristrutturazione di una casa è l'investimento di una vita probabilmente? Certo, allora le prime cose da guardare sono le certificazioni, un'azienda, ma adesso è uscito anche un nuovo piano regolatore che oltre i 500 mila euro per fortuna bisogna avere la SOA per forza e poi bisogna avere le certificazioni ISO, spiego leggermente cosa è la SOA e cosa è la ISO per chi non lo sa. La SOA è la più alta carica che si può avere come costruttori perché lo rilascia il governo italiano, quindi tu puoi fare lavori sia per il governo italiano e sia per i privati e quindi lì ti controllano tutte le attrezzature che siano a norma, tutti i ponteggi siano a posto, praticamente ti fanno il DNA assoluto dell'azienda per poter prendere questa certificazione e quindi una garanzia assoluta. Invece le ISO sono dei corpi interni che vengono a controllare l'ufficio, cioè la contabilità, se i stendi preventivi sono fatti in un modo corretto, se l'approccio, i contratti sono fatti a norma di legge e quindi lì c'è una botte di ferro. Nel caso in cui la persona non fosse così esperta, tecnicamente ci sono magari degli aspetti da considerare proprio nella gestione quotidiana dell'azienda che potrebbero… Sì, 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 ci siamo. Allora, dietro a una grande azienda ci sono sempre dei grandi fornitori specializzati. Specializzati io intendo fornitori che sono qui made, mape, gente che vende esclusivamente a grossisti, a professionisti come noi nel mondo dell'atterizzio e dell'edilizia. Le persone che vanno a fare queste magari piccole spese in questi centri commerciali un po' diciamo fai da te, non danno molto sicurezza perché è chiaro che se tu non hai un fornitore con cui hai dei rapporti di lavoro o anche con dei pagamenti di un certo tipo che a fine anno influiscono tantissimo su un utile di un'azienda seria perché diciamo ci esponiamo in due, c'è una reciproca fiducia, questa fiducia all'imprenditore edile rende un utile. Se ti togli questo utile e vai a acquistare piano piano materiali imposti così, lì bisogna far scattare subito un campanello d'allarme. Questa è la prima cosa. È appunto un segnale magari di una scarsa solidità dell'azienda. Sì, certo. È probabile che magari non abbiano fondi per poter affrontare la sua ristrutturazione. Questo è il problema. Grazie, Ciavattini ci ha dato dei consigli che potranno essere davvero utili a chi si approccia. Spero, spero. Grazie a lei. Grazie a lei.